Buonasera e ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Si è chiuso oggi l'anno scolastico per gli studenti reatini all'uscita dalla scuola, sorrisi, saluti e gavettoni, il servizio di Riccardo Fabbi. È suonata l'ultima campanella e si è chiuso oggi l'anno scolastico. Sorrisi e saluti all'uscita della scuola. Per molti inizieranno da oggi le vacanze estive, mentre per i maturandi, 1264, in tutta la provincia, è tempo di mettersi a studiare per l'esame di Stato. Per loro l'ultimo slancio sui libri. Dieci giorni per preparare la prima e la seconda prova, che si terranno il 22 e il 23 giugno, e poi dal lunedì successivo il via agli orali. Oggi, però, è stato tempo di festeggiamenti. Non è mancato il rito dei gavettoni di fine anno con palloncini, bottiglie e una vera e propria battaglia a colpi d'acqua. Come non è mancato anche il tradizionale bagno nel velino, per i più coraggiosi. Un modo per riprendersi una tanto sospirata normalità e per animare l'inizio delle vacanze. Aveva violentato la nipotina di 14 anni e ora si trova in carcere a Rieti, dove dovrà scontare la pena di 3 anni e 6 mesi a rintracciarlo, per portarlo in carcere i carabinieri di Città Ducale. L'uomo si era reso irrintracciabile presso il proprio domicilio nella capitale, scovato poi dai militari a Morlupo. La polizia di Rieti, invece impegnata in controlli antidroga, ha denunciato un 28enne di origine rumena. L'uomo aveva nascosto 20 grammi di hashish pronta da spacciare nella propria biancheria intima. Nello stesso controllo, segnalata anche la fidanzata del pusher, una giovane reatina, anche lei trovata con alcuni grammi della stessa sostanza. Vanno avanti le demolizioni a Villariatina delle palazzine Ater, che erano state dichiarate inagibili dopo il sisma del 2016. Oggi il direttore di Rieti Life, Emiliano Grillotti, ha immortalato in alcuni scatti dall'alto i lavori, che porteranno poi alla ricostruzione di nuovi palazzi grazie al sisma bonus. È stato presentato oggi in comune il sito web che racconta tutta la solidarietà per Amatrice dopo il sisma del 2016. Un paese senza memoria è un paese senza futuro, ha detto l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi alla presentazione. È il nostro modo per dire grazie a chi ci è stato vicino. Un sito che vuole essere un vero e proprio museo della memoria e che dimostrerà in quanti si sono mossi per Amatrice e per tutto il centro Italia con affetto, pensieri, aiuti e vicinanza. La curva dei contagi Covid nel Rietino torna a scendere. Dopo un lieve incremento nel bollettino diffuso da ASL martedì nel monitoraggio delle ultime 24 ore, i casi di contagio vengono nuovamente superati dai negativizzati al tampone di controllo. Nello specifico i nuovi casi di positività sono stati 68, mentre i guariti 84, col totale in tutto il Rietino che basta i 172. Pareggio in città che registra 23 nuovi casi e 23 guariti, col totale nel capoluogo a 214. Si registra però anche un decesso, una donna di 92 anni. Scatta l'allerta meteo gialla nel Rietino da domani mattina e per le successive 12 ore. Piogge, temporali e temperature che scendono con le massime, finora ben oltre la media del periodo, che si attesteranno a 27 gradi centigradi. Minime per domani a 19 gradi con piogge attese nel pomeriggio. Venerdì minima in discesa a 13 gradi centigradi e massime a 26, ma il cielo sarà più sereno. Il tutto verso un weekend che sarà caldo e soleggiato, con temperature che oscilleranno dai 15-16 gradi fino ai 33 tra sabato e domenica. Domani a Roma c'è il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Oltre a Rieti e Città Dugale, rappresentate nel Palio dei Comuni, ci sono 36 italiani in gara, tra cui l'astista, primatista italiana Roberta Bruni, che la mattina si laurea in Scienze Agrarie e poi sfida le più forti del mondo. Non ci sarà Jacobs domani a Roma, ma è certa la presenza di un altro oro olimpico, Gianmarco Tamberi, che alla vigilia del Golden Gala ha rivolto il suo pensiero ai tricolori di Rieti. Gimbo, in tanti ti aspettano anche a Rieti, ai campionati italiani. Cosa ti senti di dire per quella gara? Sì, è l'ultima gara prima del Mondiale, quindi sarà una tappa importantissima, come è importantissima quella di domani sera, senza ombra di dubbio. Sicuramente l'obiettivo è gareggiare a Rieti e nel programma gare. Sto vedendo molti bei risultati dai miei colleghi italiani, quindi sarà anche, speriamo, una bella gara. Obiettivamente spero di poter raggiungere delle alte misure già prima del Mondiale per avere delle conferme tecniche. Sia domani o a Rieti lo scopriremo. In parte, devo dire, spero più domani, perché ci tengo particolarmente al Golden Gala, però anche a Rieti so che c'è una pedana magica molto buona, quindi sarà anche quello un grande stimolo. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Live, che torna domani sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata. Grazie a tutti.